Dal 15 ottobre in Italia, come tutti ben sapete, è in vigore la normativa che prevede che tutti i lavoratori, per poter accedere al loro posto di lavoro, devono essere in possesso del Green Pass. Questo ordinamento ha generato diverse problematiche per Adribus, l'azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Pesero Urbino, che da quel giorno ha contato una riduzione di una quarantina di dipendenti non intenzionati a sottoporsi alla vaccinazione. Questa divergenza ha suscitato inevitabilmente del caos per la società di trasporto, che ha deciso di ridurre le corse spalmandole principalmente tra gli orari di punta della giornata. Ed è proprio da questo presupposto che noi oggi ci troviamo in una delle fermate di Morciola, perché in settimana sono state tante le segnalazioni da parte dei cittadini di Vallefoglia, che si sono lamentati della cattiva organizzazione dei trasporti pubblici da parte di Adribus. Il problema riscontrato dai cittadini dell'entroterra che usufruiscono degli autobus giunge soprattutto nel weekend, perché proprio al sabato e alla domenica che nel territorio di Vallefoglia è presente solamente la tratta Urbino-Morciola-Pesero e solo nella fascia pomeridiana. La riduzione delle tratte, in particolar modo per il fine settimana, era già stato comunicato dalla società di trasporti pubblici nel loro sito internet, senza però apportare alcuna modifica sul punto delle fermate degli autobus. Di conseguenza, in base alla comunicazione effettuata da Adribus, un cittadino di Vallefoglia che non ha internet nel telefono o predisposizioni per poter andare a vedere sulla pagina online, non può essere a conoscenza della variazione delle diverse tratte che percorrono i tram durante il giorno, specialmente nel weekend. Questo deriva anche da come c'è stato segnalato, da una mancata assistenza telefonica al pubblico nella giornata di domenica, negando ai possibili passeggeri di conoscere il motivo per cui un tram, che fino a qualche giorno prima passava, ora non passa più.